Torna a Teramo la tre giorni dedicata ai più piccoli e alla beneficenza. L'evento, denominato Favolando prima di Natale, giunto quest'anno alla quarta edizione, ha avuto un successo crescente, superando, nell'ultima edizione, le mille presenze, con la partecipazione di tutte le scuole primarie di Teramo. Quest'anno abbiamo il coinvolgimento diretto della provincia di Teramo, con la presenza anche del Presidente, ma come l'anno scorso, che è una novità dell'anno scorso, anche i bambini delle case famiglie della provincia di Teramo che parteciperanno l'ultimo giorno, cioè il 18 pomeriggio, alla festa finale dell'evento. Primo giorno, tutte le mattine, 16, 17 e 18, dalle 10 alle 12, l'incontro con le scuole elementari, disegnatori e scrittori incontrano i bambini, ci saranno, oltre alla presentazione del libro con video, momenti di animazione, cantano le canzoni, ci sarà un momento di lettura animata, ogni giorno diversa, con la collaborazione di importanti associazioni, l'Istituto Braga di Teramo, ci sarà l'associazione di danza Tersi Corea anche, e quindi balletti, musiche dal vivo. La cosa importante, il primo pomeriggio, il 16 alle 15 e 30, faremo una replica per la cittadinanza e per i bambini che vorranno venire, dell'opera musicale fatta col Braga. E ricordiamo per tutti l'ultimo giorno, alle 17 e 30, ci sarà finalmente il momento conclusivo di ogni anno dedicato a Peter Pan. Io voglio ricordare che è soprattutto un evento di importanza sociale e di beneficenza. La vendita dei libri non ci sarà solo Favolà, ci saranno altri libri per i bambini presentati durante la manifestazione, concorrono a finanziare un progetto per le residenze dei bambini negli ospedali, quindi è una cosa molto importante a livello nazionale.